Il numero preciso di quanti dipendenti lavorino per la multiservice ancora non è chiaro, sono circa 100 di cui tra i 20 e i 50 a tempo determinato. Questo è solo uno dei misteri così definiti dagli stessi lavoratori intorno alla vicenda che interessa i servizi esternalizzati del Comune di Potenza. I dipendenti della multiservice si occupano del servizio mensa e assistenza disabili nelle scuole ma se per il primo servizio c'è l'aggiudicazione temporanea per la multiservice unica partecipante al bando, il servizio dell'assistenza ancora non è possibile sapere quando sarà affidato e se i dipendenti che se ne sono sempre occupati potranno tornare a lavorare. Questi alcuni aspetti da chiarire e illustrati dai sindacati di categoria e dai lavoratori al sindaco di Potenza nel corso di un incontro nel Palazzo di Città. In presidio davanti alla sede del Comune di Potenza i lavoratori hanno spiegato la loro difficile situazione. Tra l'altro avanzano ancora gli stipendi del mese di giugno 2014 e di giugno scorso più la quattordicesima. A ciò si aggiunge la preoccupazione per il futuro del servizio mese per cui il Comune di Potenza ha ridotto del 40% il budget a disposizione con possibili conseguenti ripercussioni negative hanno sottolineato lavoratori e sindacati sul numero di ore lavorative o sulla qualità del cibo.